oh perchè? no vabbè dai ciao a tutti gamers e ben tornati sul canale di gmxgen ragazzi siamo tornati oggi su il myclub di PES 2016 che ragazzi questo è il tabellone e come vedete mi mancano 3 partite e devo fare un punto per salvarmi e 4 per andare in divisione 6 ragazzi se non so se vi ricordate ma nell'ultima partita quel 3-0 contro il Bayern Monaco non c'era che cosa è successo? ho iniziato a registrare, ho fatto la prima partita e mi è caduta la connessione e me l'ha data nulla ho fatto la seconda partita e ragazzi eravamo 1-0 per me, è caduta la connessione e me l'ha data la sconfitta per 3-0 ora ragazzi io sinceramente mi sto stupando di questa storia perché se vedete sono 2-3-0 per disconnessioni quindi sono 6 punti in meno che in questo momento mi farebbero comodo ragazzi io non so che dire veramente, non so se dipende dalla mia connessione, se sono i server della Konami se la gente usa dei trucchi, io ragazzi non lo so però mi sto veramente scucciando oltre ad essere abbastanza al di là per questa situazione, quindi essere incazzato nero ok ragazzi quindi andiamo a vedere, sperando di riuscire a fare le due partite di questo episodio ok ragazzi eccoci qui, questa è la formazione del mio primo avversario vedete una buona formazione con Tevez e Terro in stanti caso ora Pico, Ponce e Williams, poi Kolarov, Fernando Silva, De Rossi, Mirigna e Noie in porta qui ragazzi ho Lewandowski destro, Baggio, Carmona al posto di Van Ginker, Sturaro, De Jong, Kolarov, Godin ragazzi ho trovato nel ball opening dei difensori delle due passasse, 80 più Mangala, 84 di overhaul Lam e Reali, quindi ragazzi con questa formazione andrò ad affrontare il mio primo avversario Baggio, prova il tiro dalla distanza, Manuel Noie è sulla traiettoria ha visto il padone dentro verso Kolarov, pallone che rimane lì, attenzione qui rischio enorme, oh perchè, no vabbè dai, attenzione il tiro fuori ragazzi, ma ho fatto una cazzata enorme, si era bloccato, fermati adesso, cerca spazio, pallone dentro, attenzione, è filtrato il pallone e perché non tiri, troviamo il tiro dalla distanza fuori di pochissime, bacio ancora, avanzato di bacio il tiro, Manuel Noie si esiste una bella parata, va bene, tranquillato, baggio, Lewandowski, Lewandowski al tiro, il gol, e passiamo finalmente in vantaggio, in maniera meritatissima ragazzi, 1-0 per noi, finalmente, e finisce il primo tempo, ragazzi in primo tempo combattuto, ma siamo meritatamente in vantaggio, ci stiamo giocando leggermente meglio, e dopo 4-3, non solo per noi, vediamo come andrà il secondo tempo, pallone ancora suo, e c'è il pareggio, ma porca puttana, ma ragazzi, ma non si può, lasciarlo solo, coloro va ancora, attenzione, Carmona, Carmona all'indietro, ma non ce n'è, ma porca miseria, presidiamo qua, attenzione qua, a destra, che è filtrato, c'è sul gol, 2-1, ci riportiamo in avanti, Mattia a destra, 2-1 per noi ragazzi, siamo di nuovo per il vantaggio, ma ancora dentro, palla per lui, prova il tiro, cross dentro, sulla linea, abbiamo spazzato via, riceve in ottima posizione, prova la giocata dello staglio, no, poi l'accolo delle ali, ragazzi, stiamo riscando, è stato bellissimo, andiamo, c'è il primo, vediamo, dentro, dentro, faccio, a questo scatto, e vanno al suolo, e vanno a finire, gol, 3-1, gol, mancando, gol su via, ragazzi, non solita legge del calcio, non sbaglia mai, e finisce la partita, ragazzi, finisce la partita, 3-1 per noi, quindi ci siamo salvati, applauso, tra l'altro, merita di sé, ti rio, 5-1, giocatori più grande, ragazzi, andiamo a vendere, ma adesso a seconda, partita, per via centrale, allora, ragazzi, eccomi qui, come vedete lì, un altro 3-0, cioè, ragazzi, io non so che dirvi, la connessione a me è caduta, non avevo neanche iniziato, gioca, stavo ancora nello schema delle formazioni, vi stavo dicendo, nella registrazione da mia formazione, la sua, si è disconnesso, ragazzi, è un altro, la sconfitta per 3-0, e io non ci credo, ripeto, non so qual è il motivo, se la gente usa dei programmi, se mi serve della Konami, non penso che sia la mia connessione, perché ho registrato altre cose online, non ho avuto nessun problema, quindi, ragazzi, veramente, mi sto stufando, ragazzi, ho disponibile solo una partita, e ne ho anche un punto per andare in divisione 6, sono a dolore di farmi la divisione 7, e ho, ragazzi, guardate, 3 partite perse per 3-0 per disconnessione, cioè, in questa divisione 7, ne ho persa solo una per te merito, quella di 3-1, non mi sembra giusto, ragazzi, io mi sto stufando sul serio, ragazzi, andiamo a vedere se riesco a giocare questa seconda e ultima partita di questa divisione 7, eccoci qui, ragazzi, questo è il nostro secondo avversario, vedete, ne ho anche c'è De Bajor e Hernan, poi Podolski, Pastore, Mascherano e Bastuber a centrocampo, Antunes, Kirk, Luis Gustavo e Gámez a indifesa, e poi importa, ragazzi, vi dico soprattutto che io c'ho 361 di overall, questo avversario a 465, mi manca un punto, quindi ragazzi, la vedo duro, speriamo bene, andiamo nella seconda partita. Anticipato, ma bravo qua, Robert, fallone dentro, no, non aggancia, bravo qua, adesso, dentro, Robert, le vanno a fare il gol, passiamo un vantaggio, Robert, lavandino, levandoski, un altro per me, grande gol di lavandino, attenzione lì col calcio di punizione, bravissimo, e ali, blocca, ancora fa la perro di Baggio, 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 Baggio ancora, Baggio, Baggio, anticipato, dentro ancora, Baggio, dentro ho perso Robert Lewandowski, la palla che rimane lì, esce male col partire, levandoski, nulla da fare, e finisce il primo tempo, 1 a 0, per noi, con la De Pajor se ne va, Mangalate Pajor c'è il pareggio, ma porca puttana, porca, no, ragazzi, niente da fare il pareggio, e non c'è la meno di mattina in pareggio, attenzione al tiro fuori, l'avversario ha preso coraggio, dopo il pareggio, ma ancora De Pajor dentro, e c'era il miracolo di Leal, anziquà ancora lui, cross, De Pajor, spaziamo via la palla, stiamo soffrendo ragazzi, ragazzi, non scala i giocatori subito, odio questa cosa qui, le Yongle, sicuraro, oh ma perché, ma è vabbè, dai, sì, vabbè ragazzi, niente, è possibile, vabbè, io mi sono rotto i coglioni, cioè ragazzi, non si può, no, vabbè, ma non è possibile, non fanno più, non riesco a prendere una palla, Baggio, Baggio, prova il tiro, l'ha parata, come qua ragazzi, Baggio, ha visto lo scatto, il pareggio, il pareggio, il pareggio, il pareggio, al 92esimo scaduto, abbiamo pareggiato ragazzi, attenzione ora, fantastico, questi due giocatori, mangala, ragazzi, abbiamo raggiunto il pareggio in maniera inaspettata, è insperata, no, 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 ragazzi, abbiamo raggiunto il pareggio, e finisce ragazzi, al carto palmo abbiamo conquistato il punto, che ci permette di andare in divisione 6, ragazzi, nel secondo tempo ci è andato un sacco di problemi, in questo avversario, in questo punto, ragazzi, ma siamo andati in divisione 6, che ragazzi, comunque, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, commentate se avete qualcosa da dire, sostenetemi, ragazzi, io sto ancora elettrizzato, ho il cuore che mi batta 10.000, perché arrivare al 92esimo per segnare l'ultima azione e andare a finire 6, è veramente, ragazzi, una cosa, da una parte bruttissima, perché pensavo di non farciare più dall'altro, perché ragazzi, bellissimo, queste sono le emozioni del calcio di questi giochi, ragazzi, condividete i video se avete ancora fatto, mi ha fatto, iscrivetevi al canale, consigliate i nostri amici, qui sotto, come sempre, trovate tutti i miei social, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat e Telegram, noi ci vediamo al prossimo video, e noi proseguiamo con il my club in divisione 6, qui da Angelo83 è tutto, ciao gamers! Ciao!